Eppur si muove, per il cinema massimo, storica sala del centro storico cittadino, c'è un passo in avanti importante verso il consolidamento e il recupero con relativa manutenzione degli impianti. Il Comune ha affidato la verifica del progetto definitivo. Si tratta dei lavori del secondo lotto, dopo che il primo, la messa in sicurezza praticamente, si era chiuso già da anni, nel 2018, ma nel corso del tempo ci sono stati problemi e rallentamenti. Finalmente nel 2023 si è sbloccata la situazione con l'affidamento della progettazione. La storia del cinema è un'altra di quelle lunghe e complesse degli anni post-sisma. L'edificio, dopo il terremoto, è stato oggetto esclusivamente di lavori di consolidamento, il primo lotto. Le risorse per il recupero sono ingenti, fondi cipe, oltre 4 milioni di euro. Nel 2022, però, progettazione a parte, fu richiesto di eseguire nuove indagini strutturali e ci fu da risolvere un altro problema per lo sversamento di liquami in un locale attiguo. La sovrintendenza, poi, ha chiesto anche delle integrazioni. La conferenza dei servizi successivamente ha detto sì, ma il progetto definitivo consegnato a un quadro economico superiore alle somme di cui l'amministrazione dispone e, così in attesa di nuove risorse, si è avviato l'iter per il consolidamento e il recupero dello stabile, acquisendo intanto un progetto definitivo del primo stralcio, dove sono previste opere strutturali, opere dili in parte e opere impiantistiche, solo quelle strettamente connesse con le opere dili e strutturali. Il cinema massimo è un altro spazio culturale che fa male vedere ancora chiuso, un cinema raccolto, ben diverso dalle moderne multisale. Sarà ancora cinema e questa è un'ottima notizia, ma dovrà tener conto di alcune prescrizioni. Non ci sarà un'unica sala, saranno quattro. Verrà ristrutturata la sala storica da circa 350 posti, altre due saranno adibiti alle proiezioni cinematografiche. Da 72 posti ciascuna, una da 64 verrà usata per rappresentazioni teatrali e altri tipi di spettacoli culturali.